Oggi voglio raccontarvi di un evento molto importante e drammatico che accade in Terra Amara, la morte di Akan. Questo è un momento che nessuno si aspettava e che cambierà molte cose nella storia. Ecco come si svolgono le cose. Akan è uno di quei personaggi che ha avuto un ruolo chiave nella serie. La sua storia è stata piena di alti e bassi e ha sempre avuto un impatto significativo sugli altri personaggi. Ma in questo episodio qualcosa di tragico succede. Durante una scena molto tesa qualcuno spara Akan e purtroppo non ce la fa. La scena è molto emozionante e lascia tutti gli spettatori sorpresi e tristi. Dopo questo shock tutti iniziano a chiedersi chi possa essere stato. Una delle teorie più discusse è che potrebbe essere stato Demir. Demir, come sappiamo, ha avuto molti conflitti con Akan nel corso della serie. Ci sono stati momenti in cui sembrava che potessero risolvere i loro problemi ma poi le cose si sono sempre complicate di nuovo. Quindi è possibile che Demir sia tornato per vendicarsi di Akan? Questa ipotesi ha senso, dato il loro passato burrascoso. Demir è sempre stato un personaggio complesso, capace di grandi gesti di amore ma anche di azioni molto dure quando si sente tradito o minacciato. La possibilità che sia stato lui ad uccidere Akan non può essere esclusa. Ma, come in ogni buon dramma, le cose non sono mai così semplici. Ci sono molti altri personaggi che potrebbero avere avuto i loro motivi per fare del male a Akan. Forse qualcuno che non ci aspetteremmo? O forse c'è qualcosa di più complicato dietro a tutto questo? Nelle prossime puntate vedremo sicuramente i personaggi lottare per venire a patti con questa perdita e cercare di scoprire la verità dietro la morte di Akan. Vedremo anche come questo evento influenzerà le loro decisioni e le loro vite. La morte di Akan lascia un vuoto nella storia e tutti sono curiosi di vedere come i personaggi reagiranno a questa grande svolta. In conclusione, la morte di Akan è un momento chiave nella serie e apre molte domande. Sarà interessante vedere come gilai sceneggiatori svilupperanno questa trama e se la verità sulla sua morte verrà mai alla luce. Gli spettatori sono sicuramente in attesa di vedere come si evolverà la storia dopo questo tragico evento. Questa settimana in Terra Amara ci sono un sacco di cose interessanti. Lutfi e Sanie stanno cercando di capire come è morto Fekeli. Zuleya deve decidere cosa fare con Demir. Ecco cosa succederà. Nell'episodio di lunedì, Betul scopre che Lutfi pensa che Fekeli potrebbe non essere morto di infarto. Intanto, quando Zuleya non c'è, Abdul Kadir ed Akan cercano di fare qualcosa contro l'azienda Yaman, ma Sabia li scopre. Sermin compra una macchina americana di lusso e tutti rimangono a bocca aperta quando la vede. Lutfi scopre che Zuleya è andata a Izmir ed è molto preoccupata, ma poi viene rassicurata che Zuleya sta bene e non è sola, è con Akan. In un episodio ricco di emozioni di Terra Amara, Sanie e Lutfi prendono una decisione importante. Decidono di andare a Isparta, una città non troppo lontana, per cercare di scoprire di più sulla morte di Fekeli. Questa cosa le preoccupa molto, perché Fekeli era una persona molto importante per loro e la sua morte improvvisa ha lasciato tante domande senza risposta. Si preparano per il viaggio, parlando di quello che potrebbero scoprire. Sanie sembra un po' ansiosa, ma Lutfi è determinata a trovare delle risposte. Partono insieme, promettendosi di aiutarsi a vicenda in questa difficile ricerca. Durante il viaggio parlano dei bei momenti passati con Fekeli e di quanto la sua assenza abbia lasciato un vuoto nelle loro vite. Intanto a Villa Yaman Fusun e Sermin si trovano in cucina e parlano anche loro della morte di Fekeli. Sermin è molto curiosa e fa un sacco di domande a Fusun, che sembra sapere un po' di più sulla situazione. Fusun condivide alcune delle sue teorie e ipotesi, ma entrambe sono consapevoli che senza prove concrete sono solo congetture. Abdul Qadir, che si trova nella stessa stanza, sente tutta la conversazione. È molto preoccupato per quello che sta succedendo e decide che deve fare qualcosa. Non vuole che Sanie e Lutfi si mettano nei guai o scoprano qualcosa che potrebbe essere pericoloso. Così prende una decisione impulsiva, seguirle a Isparta. Si prepara rapidamente, prendendo solo l'essenziale per il viaggio. Mentre si incammina, riflette sul perché si sente così responsabile per la sicurezza di Sanie e Lutfi. Ha sempre avuto un debole per loro e non vuole che nulla di male gli accada. Durante il viaggio si chiede cosa troveranno a Isparta e come reagiranno Sanie e Lutfi quando scopriranno che le sta seguendo. Abdul Qadir è determinato a proteggerle, anche se non sa ancora esattamente da cosa le sta proteggendo. La puntata finisce con Abdul Qadir che arriva a Isparta, proprio mentre Sanie e Lutfi iniziano la loro ricerca, lasciandogli i spettatori in attesa di scoprire cosa succederà dopo. A Villa Yaman, Aziz e il piccolo Adnan scompaiono improvvisamente. Tutti sono preoccupati, ma poi si scopre che sono andati in città a mangiare dolci. Quando stanno per iniziare a cercarli, tornano a casa. Anche Adnan torna a Villa Yaman, con Betul che lo ha trovato per caso in città. Nel frattempo Zuleyat è a Izmir con Heikan e sta per leggere le lettere di Demir a Ulyah, sperando di trovare le risposte che cerca. Zuleyat torna alla tenuta, dove Fikret la critica per essere scappata con Akan. Betul e Sermin litigano un po' e poi Zuleyat va a pranzo con Akan e Gielli dice che vuole divorziare da Demir. Nell'ultima puntata di questa settimana di Terra Amara, succedono un sacco di cose interessanti, soprattutto con Zuleyat. La puntata inizia con lei che ha un incontro molto importante. Va a trovare l'avvocato Hayati, un uomo serio e rispettato, per parlare di una cosa molto delicata. Zuleyat sembra un po' nervosa, ma è determinata. Si siede di fronte a lui e, dopo qualche minuto di silenzio, Gielli dice chiaramente che ha deciso di divorziare da Demir. Questa è una decisione grande per lei, perché Demir è stato una parte così importante della sua vita per tanto tempo. L'avvocato Hayati ascolta attentamente, ma non risponde subito. Si vede che è un po' sorpreso e anche preoccupato per Zuleyat. Hayati conosce bene Demir e sa che non sarà facile per lei, ma dopo aver pensato un po', accetta di aiutarla. Dice a Zuleyat che sarà al suo fianco in questo difficile percorso e che farà tutto il possibile per assicurarsi che le cose vadano per il verso giusto. Nel frattempo, a Villa Yaman, un'altra scena interessante si sta svolgendo. Lutfaye e Sermin sono nel salotto, quando Sermin nota qualcosa in un giornale. C'è un articolo che parla di Zuleyat e delle sue intenzioni di divorziare da Demir. Sermin lo legge ad alta voce e Lutfaye, che è sempre stata molto vicina a Zuleyat, sembra molto preoccupata per lei. Discutono insieme su come potrebbe cambiare la vita di Zuleyat dopo il divorzio e su cosa potrebbe significare per tutti loro a Villa Yaman. Mentre leggono l'articolo, si rendono conto che le decisioni di Zuleyat potrebbero avere grandi ripercussioni non solo sulla sua vita, ma anche sulle vite di tutti coloro che la circondano. La puntata si conclude lasciando gli spettatori in attesa di scoprire come reagirà Demir alla notizia e quali saranno le conseguenze di questa grande decisione di Zuleyat. Secondo te Akan sarà ucciso da Demir? Scrivi cosa pensi nei commenti sotto al video. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di terra amara.